Nel cuore della nostra città metropolitana c'è uno spazio che è grande quanto 600 campi di calcio messi tutti insieme, si chiama Taverna del Re ed è il luogo dove sono sepolte le ecoballe. Queste ecoballe rimangono in questo territorio dove alla nostra destra, come vedi, ci sono campi di frutta, ci sono albicocche, pene, pomodori che vanno sulle nostre tavole. A Giuliano, come ad Acerra, nella terra dei fuochi, la mortalità infantile è del 30%. I dati più gravi dicono così, sapete che significa? Uno, due, tumore. Uno, due, tumore. Mi vengono i brividi a dirlo, ma siamo noi, sono i nostri figli che muoiono, il 30% di mortalità infantile. È per questa ragione che al primo punto del nostro manifesto presentiamo un piano che abbiamo chiamato ossigeno bene comune, sanzioni per tutti i comuni che non rispettano il piano per il verde urbano e soldi in più invece per chi non solo rispetta quel piano, ma per chi applica la legge nazionale che dice per ogni nuovo nato un nuovo albero. Grazie. 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 Grazie.